A Palermo, presso il Centro Culturale Biotos, è stato presentato il romanzo Un Sogno ad Occhi Aperti di Pipo Carollo, casa editrice Moicani. A relazionare sul romanzo l'avvocatolino Buscemi, giornalista e docente dell'Università di Palermo, è la giornalista e scrittrice Francesca Currieri, autrice della prefazione e presidente dell'Associazione Culturale La Bia Verde. L'evento è stato moderato dalla giornalista Ambra Drago, che con chiarezza e linearità ha introdotto la presentazione. Una platea attenta ha applaudito lo scrittore che non ha nascosto durante la presentazione la sua emozione. Presente anche l'editore Pietro Scaione. La centralità del romanzo è il sogno ad occhi aperti che porta alla luce un amore proibito, maturato durante la fase dell'adolescenza, che sfida la realtà, rievocando emozioni e sentimenti. Secondo la psicoanalisi, scrive Francesca Currieri nella prefazione, dietro l'innamoramento, si nascondono dinamiche incosce, bisogni effettivi insoddisfatti e aspettative deluse. Il protagonista, Peppino, butta la maschera e scivola fuori dalla sua realtà, scava nei ricordi, rivive il passato attraverso un incontro improvviso e causale. Vi si specchia dentro e le ferite cominciano a riaffiorare. Il contenuto del romanzo, che amalgama fantasia e realtà, porta alla ribalta a contraddizioni, rimorsi, paure, non lasciando però sotto traccia la voglia di evadere dalla realtà e vivere una vita dissimile e magica. Precisa e puntuale l'intervento del relatore Lino Buscemi, il quale, oltre a complimentarsi con l'autore per l'interesse letterario dell'opera, nonché per il linguaggio semplice e scorrevole del contenuto, si è soffermato sull'amore proibito, oggetto del sogno ad occhi aperti sull'ambiente naturale, dove il sogno stesso matura e sulla complicità che intercorre tra il protagonista e il cagnolino, a riprova dell'amore che l'autore nutre nei confronti degli animali a quattro zampe. Francesca Currieri ha basato il suo intervento iniziale sulla conoscenza personale dell'autore sul rapporto quotidiano che la lega lo stesso. Nell'intervento della relatrice non è mancato il riferimento alla grande sensibilità, correttezza, semplicità e disponibilità che contraddistingue lo scrittore, facendo emergere nel proseguo della sua relazione le motivazioni che hanno spinto l'autore a scrivere il romanzo e a dare allo stesso il titolo Un sogno ad occhi aperti. Il romanzo, che prende spunto da una poesia, è quasi tutto frutto di fantasia, anche se non mancano alcuni riferimenti reali. Dichiara con voce un po' tremante per la commozione l'autore. Parlando di realtà oggettiva, Pippo Carollo fa riferimento al suo barboncino e al contesto ambientale del sogno ad occhi aperti, che anche se non riportato nel contenuto si intuisce trattasi di mondello. Ed io, nativo di Sferracavallo, afferma l'autore, dove la spiaggia non c'è, me ne vergogno un poco. Alla domanda sul perché decide di dare due finali al romanzo, lo scrittore risponde, lascio al lettore la facoltà di scegliere, tra un finale e l'altro, e nello specifico il finale dove trionfa la morte e l'altro dove trionfa la felicità e la vita. Auguriamo a Pippo Carollo di non smettere di sognare e continuare il suo percorso con la consapevolezza di un fattivo arricchimento del patrimonio culturale del nostro territorio.